Sto morendo, non ce la faccio più, ragazzi è buonissimo, sono buonissimo l'orecchio Avete visto i pesci? Questo video è troppo cringe Buongiorno vlog family e bentornati in questo nuovo video vlog Montesi è amico di un cavallo E ragazzi sto in mezzo alla strada vloggando perché sono fallito Sto ora a Dubrovnik Lui mi sta sulle palle E vi starete chiedendo perché Dani stai in Croazia? Ha rotto il cazzo, ogni cosa qua ha davvero rotto il cazzo Mi sta così tanto sulle palle sto posto No non è vero è bello Allora perché sto in Croazia? Dovete solo aspettare perché c'è un video pazzesco che deve uscire Dove io ando in Croazia? Ma voi non sapete perché Il video uscirà a settembre quindi tenetevi pronti Iscrivetevi se non vi siete già iscritti per riunirvi alla vlog family E lasciate un bel like per favore dai Comunque è un gran bel casino perché io che sto in Croazia non posso editare Non posso fare video E mi manca troppo Quindi questo mio amico che sta editando questo video si chiama Tony Ragazzi il link in descrizione per il suo canale YouTube È veramente bravissimo a editare Farà questo video e probabilmente farà i video per le prossime due settimane Una Lo so mi dispiace Non so perché lo sta facendo È veramente un grande Comunque è veramente difficile vloggare qua perché ogni volta che vloggo Passa una macchina e non posso parlare O passa uno e dice che sono un coglione È veramente un problemone Comunque che faremo Valerio? Schifo! Non lo fare mai più Fa schifo Ho deciso Queste macchine hanno davvero rotto il cazzo eh Comunque che devo fare oggi? Oggi ho deciso di stare 24 ore sott'acqua E ho letto questa cosa e ho detto Se stai più di un'ora sott'acqua è già super pericoloso Perché tipo per la pressione dell'acqua qualcosa ti sfracella il cervello Non so manco che sta succedendo Però odio la mia vita Quindi ragazzi andiamo subito sulla spiaggia che devo fare questa challenge 24 ore Ho la cover Così non si rovina il telefono Non vedo l'ora di farlo Però è un problema perché io non riesco a parlarvi se sto sott'acqua Quindi alcune volte mi devo mettere la bocca fuori e dirò una cazzata Quindi a dopo raga Allora ragazzi ora siamo arrivati sulla spiaggia Io mi devo mettere queste cose così posso respirare sott'acqua e ci posso stare 24 ore Però dubito che ci starò per 24 ore perché è pericoloso stare sott'acqua per 24 ore Già un'ora ti distrugge Quindi io inizio ad andare Ellie può registrare qua sulla spiaggia quando resterò per troppo tempo Io devo stare sott'acqua e non parlerò tanto perché ovviamente non puoi parlare sott'acqua Ora andiamo belli ragazzi Ragazzi sembrò troppo stupido Sembrò tipo un fallito Tutti gli altri mi stanno guardando malissimo Ok ragazzi sto in acqua Ah è freddissima È davvero fredda l'odio Come ho detto prima Ragazzi questi video saranno editati di meno per questi tipo prossimi tre video E mi dispiace un botto Però tranquilli All'inizio di settembre inizio a fare video fantastici Non sto dicendo che Tony non edita bene Solo che non è il suo lavoro Sta facendo un favore poraccio Quindi non deve editare perfettamente Però ragazzi veramente andate a vedere il canale YouTube di Tony Che è bravissimo a editare Allora iniziamo ad andare in acqua Ok prima prova è un fail Perché mi è entrata l'acqua dentro la cosa Però ragazzi guardate quanto è bello questo posto È fantastico È troppo figo Sono tipo le 12 e mezza Quindi provo a restare più tempo possibile in acqua Vai Mi senti fita che sto morendo Non ce la non so più Ragazzi tecnicamente sto ancora sottacco Quindi conto Ho deciso che vado fino alla fine del mar Quindi laggiù vado Ok se va Ragazzi ho visto due cose fighissime sottacco Ora te le faccio vedere Ho visto i pesci Questo video è troppo cringe Ragazzi è troppo pericoloso Ci sono stato per tipo un'ora qua sotto Sono tipo l'una ora Io ho troppo fame perché non ho mangiato pure sete Non ce la faccio più Però conta che farlo così Perché sennò il video diventa troppo noioso raga Non sbloccate se alcune volte faccio così Ma lo devo fare sennò diventa troppo noioso Comunque io so che Dani sta facendo 24 ore sott'acqua per un video Ma mi sto preoccupando abbastanza perché non lo trovo E noi dobbiamo andare a mangiare Quindi adesso lo vado a cercare E si tratta Ho provato Dopo un po' di tempo che lo cercavo Sta ancora là Ragazzi mi hanno malissimo le orecchie Sono per scordi Tipo altri 30 minuti È l'una e 48 Sto morendo Non ce la faccio più Ragazzi mi hanno malissimo Mi hanno malissimo le orecchie raga Pesso ci saranno tipo altri 30 minuti E poi viscio Oddio regà no Ho fallito Mi ho troppo male Mi hanno malissimo le orecchie Non ce la faccio più Sto morendo Dani ma che è successo? Ti fanno male le orecchie? Ti fanno due ore dentro Ci credo Ci sei stato un anno Sto morendo Sto morendo Ti giro la testa? Tantissimo Tantissimo Allora Se anche a voi Dani fa pietà Iscrivetevi E mettete like I have these lucid dreams Where I can't move A thing thinking of you in my bed